eccoci qui eccoci qui sotto la console del convento di lunato con una grande protagonista di questa serata che andiamo a conoscere meglio io nel frattempo voglio essere un po fashion victim la sua borsetta per tutta la durata di questa intervista perché mi dona che dice regia mi donna io direi di sì come ti chiami Elena Elena da dove vieni Iseo Iseo bellissima località e cosa vesteggi qui addio al nubilato il 22 di dicembre con chi Luciano Luciano bello un bel nome è un nome un po' di bagnino non fa il bagnino no il barista barista però non so perché mi dava l'impressione del bagnino meglio così allora dove vi sposerete a Villa Calinia Coccaglio Coccaglio conosco bella bella un bellissimo posto allora gli vuoi dire qualcosa no no in panico aspetta un attimo in panico per cosa vuoi una sorpresa non lo sapevo di venire qua stasera sono impreparata e a cosa ti aspettavi di andare a casa a vedere il grinch alla tele stasera donna grinch è triste però ma c'è già ma c'è già il grinch è l'otto dicembre è presto è l'otto dicembre ma è presto no è bello è natale è natale quindi vuoi guardare anche un attimo carburare ragazzi allora siccome la ragazza preparata facciamo un attimo uno spoiler dei prossimi appuntamenti televisivi quando è previsto fantaghiro no non lo so non l'ho guardato quello ma ci sarà una poltrona una poltrona quando a che ora che ora alle 9 dove taglia 1 taglia 1 bello quindi sintonizzatevi alle 9 e alle 9 e 15 ci sarà lei che si toglierà i guanti è un appuntamento imperdibile faccio uno faccio un anteprima mamma mia sono già emozionato ora che bello oddio mio che bello bellissimo che emozione nel frattempo io ti ho scippato la borsetta vuoi salutare tutti gli amici che ci stanno guardando a tutti ciao ciao adesso vado a ubriacarmi vuoi salutare la tua borsetta è ancora qua vuoi salutare vuoi salutare la tua borsetta che ora mi piace molto ma è mia io la voglio io ma si intona con la mia pelle hai ragione te la restituisco va bene allora la salutiamo salutiamo anche tutte le sue amiche che sono qua eccole partecipano anche loro alla festa e le facciamo un grande in bocca al lupo e tantissimi auguri dicendoti anche che di là abbiamo il maxi schermo e strasera proietteremo il green c'è solo per te grazie così lo puoi vedere ciao buona serata grazie a tutti